Facciamo una bella passeggiata qui al parco, qui siamo al parco di Veo, sulla Grotta Rosa, vedete quanto c'è verde, fare un giro, ci sono i ragazzi che giocano a hockey, qui giocano a beach volley, è molto frequentato questo parco. Ora andiamo in un posto molto meno affollato per fare una bella meditazione, scaricare un po' di stress, anche se ultimamente non sono molto stressata. Ok, sono appena tornata dalle vacanze, quindi diciamo che sono molto rilassata. Guardate quanto c'è verde. Tanti alberi che amo molto. Oggi non c'è tanto vento, quindi si suda abbastanza. Facciamo una bella camminata veloce per bruciare anche un po' i grassi. Collate, qui resta adesso? Io faccio la canzone per colare? Allora? Allora. Oh, un po' i grassi, che giornate va dentro. Facciamo una bella canzone per i grassi, qui, di alberi che da i grassi, come da i grassi, ormi, di armi, e, dove, 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 dove? Vedete quanta pace che c'è qui, io amo questo albero bellissimo. Questo percorso se camminato ben veloce dura almeno un'ora, se cammino molto di meno veloce ci impiega almeno un'ora e mezza. Guardate che si vedono anche le montagne, ci sono anche delle persone che camminano più avanti, vedete? Quante persone. Guardate, dopo venti giorni che non cammino così tanto, ora che mi riprendo mi sento molto molto bene. Vi saluto, ciao, un bacione. Ciao. 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 Ciao.